Volevo sapere un primo impatto sul primo tempo di questa partita Beh, il primo tempo molto bene, molto bene, siamo partiti veramente forti, possiamo migliorare Abbiamo visto degli ottimi spunti, squadra in forma fisica, si vede insomma la mano dell'allenatore Beh sì, l'allenatore ci ha messo la mano, i giocatori sono veramente forti, sì, è un gioco di squadra Allora io do la linea allo studio, noi ci vediamo per il secondo tempo di Pettegola